Dopo il caso della scorsa settimana che si è verificato a Bellizzi, in provincia di Salerno, dove due giovani omosessuali sono stati cacciati da un noto bar del centro perché le loro effusioni potevano infastidire gli altri clienti seduti ai tavoli, un altro caso di omofobia è interessato un salernitano. Stavolta si tratta di un giovane originario di Battipaia che studia e lavora a Ferrara con il suo compagno da almeno due anni. Mario e Federico insieme a Pasquale, altro attivista gay dei movimenti LGBT a sostegno dei diritti civili, stavano passeggiando tranquillamente per il centro della città quando hanno incrociato un gruppo di ragazzi più giovani che improvvisamente hanno iniziato ad insultarli. Fate schifo, finocchi dovete morire. Nemmeno il tempo di chiedere la ragione di quelle offese gratuite che uno degli sconosciuti ha sferrato un pugno alla tempia a Federico. Immediato è scattato l'allerta ma prima che arrivassero i soccorsi l'aggressore ha deciso di colpire ancora scagliando una bicicletta contro il 27enne, poi lo ha colpito con un altro pugno e lo ha lasciato a terra. Sul posto sono giunti sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale i tre malcapitati. Per il giovane omosessuale salernitano un dito rotto e una prognosi di un mese. La vittima non ha potuto fare altro che sporgere denuncia per le lesioni e le ingiurie e poi ha affidato alla sua pagina Facebook l'amaro sfogo per questa vicenda. Tanta violenza, mista omofobia, qualcosa di malsano soprattutto perché proviene da ragazzi giovanissimi, ha scritto Federico. Bisogna sempre denunciare questi atti di viltà, inciviltà e disgustosa ignoranza.